Ragazzi, bentornati al nostro appuntamento con il TG Eventi di Urban Week. Questa settimana il 7 e l'8 novembre Claudio Baglioni si esibisce al Paloflorio di Bari. Il 9 novembre invece vediamo Metna al Retour Nouveau di Messina. Il 10 novembre Gali si esibisce al Padart Hotel di Acireale in provincia di Catania. L'11 novembre Valentina Lisizza al Teatro Odeon di Catania. Il 12 novembre invece al Teatro Politeama di Palermo vediamo Il Treo all'Opera. E concludiamo il 13 novembre sempre al Teatro Politeama di Palermo con il Fontana Mix Ensemble. Se volete pubblicizzare il nostro evento scriveteci sulla pagina facebook.urbanweek.it Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti.